Per una viabilità che oggi si è momentaneamente modificata creando il caos che vi abbiamo mostrato ce n'è un'altra che per pura coincidenza quest'oggi si è modificata ma in maniera definitiva però e che riguarda lo spartitraffico di via Tommaso Campanella davanti al Codma e che mette in comunicazione il quartiere di Rosciano. Deatro da sempre di gravi incidenti per via dalla pericolosissima svolta a sinistra per chi viene dal cimitero e che deve dirigersi verso Fano. Diverse volte per le gravi conseguenze degli schianti tra auto o due ruote Icaro è dovuto atterrare nel piazzale vicino per trasportare a Torrette di Ancona il malcapitato. Per far sì che questo non avvenga più in attesa di poterci costruire una rotatoria il cui costo si aggira in non meno di 200.000 euro più euro meno il comune ha pensato anche in virtù della nuova rotatoria davanti al Codma dell'Interquartieri per le opere compensative di riordinare diversamente la circolazione. Alla luce del cambio dell'avviabilità dell'apertura della nuova strada che da via Roma conduce fino al Codma abbiamo cambiato il senso della viabilità di questa strada ovviamente mettendo uno stop sulla strada che viene da Bellocchi e favorendo quindi il flusso di circolazione che va verso il Tre Ponti. Ci auguriamo che la gente si abitui perché effettivamente è una cosa un po' una novità, la gente si dovrà abituare però questo garantisce una maggiore sicurezza di un incrocio molto pericoloso e alla luce anche dell'aumento del traffico non potevamo fare diversamente. Dunque un provvedimento che va nel senso di migliorare l'avviabilità ovviamente ci saranno dei cambiamenti perché chi viene dal Codma dovrà fare necessariamente la rotatoria nuova delle opere compensative e ritornare su. Ci auguriamo che questa sperimentazione vada per il verso giusto, crediamo di aver fatto comunque una cosa che comunque agevole il passaggio del flusso principale di traffico che ci aspettiamo ovvero quello che viene da via Roma e che va verso la zona industriale di Bellocchi. Chi esce da Rosciano quindi e deve dirigersi verso Fano ora può in sicurezza avendo la precedenza fare quasi un'inversione verso la Flaminia per chi invece proviene dalla zona industriale e deve dirigersi a Rosciano dovrà necessariamente passare per la nuova rotatoria.